Ciao, sono Vincenzo D'Amato e volevo ricordarti che il 3 ottobre all'Ecco ci sarà un evento straordinario verso l'infinito e oltre, la prima edizione di un evento magico che negli anni segnerà davvero la storia. Dalle scoperte archeologiche agli Stargate di Gaia, il sottotitolo dell'evento, ci saranno tanti ospiti, relatori che parleranno di quelle che sono le proprie competenze, le scoperte nel mondo dell'archeologia, della ufologia, eccetera, eccetera. Io personalmente parlerò di quello che abbiamo scoperto, compreso ed analizzato in un sito molto particolare, il sito delle piramidi di Bosnia, tutto ciò che c'è intorno a quel sito, le sfere, i tunnel di Ravne, le energie che avvolgono quel sito e ne parleremo meglio insieme il 3 ottobre all'Ecco in questo straordinario magico evento. Ti aspetto.